Musica Presentati a Sibari i lavori del terzo macrolotto della strada statale 106 Ionica. L'investimento è di circa un miliardo e 330 milioni di euro. Il progetto prevede la realizzazione di due lotti, il primo da Sibari allo svincolo di Trebisacce e il secondo da Trebisacce a Roseto Capospulico. I lavori saranno avviati a breve e i cantieri saranno tutti operativi entro fine anno. Un itinerario complessivamente che completa 150 chilometri di strada a quattro corsie che è stata già realizzata. Questo mette in connessione l'Ionica e il porto di Taranto con l'autostrada del Mediterraneo. È una viabilità strategica complessivamente per la Calabria e per il sud. Finalmente questi 38 chilometri vengono a completare tutta la direttrice. Oggi possiamo dire che nel corso di questa stagione estiva inizia un'importante opera nella nostra regione. Già i lavori preliminari, quelli della verifica di ordini bellici, dello sminamento eventuale, degli espropri, già in atto. L'ultima cosa, che non è ultima ma è importante, Noi riteniamo che è necessario alzare l'asticella dell'attenzione, la trasparenza perché è sempre in agguato l'organizzazione criminale perché rispetto a investimenti di questo tipo bisogna mantenere alta la vigilanza. Non è un caso che noi abbiamo proposto un protocollo di legalità con la prefettura, la regione, l'ANAS, il contraente generale perché appunto noi abbiamo bisogno che le opere vadano avanti con il massimo di trasparenza possibile, che ci siano ricadute dal punto di vista occupazionale e ci saranno e saranno importanti e anche per il sistema delle imprese, delle imprese pulite che in Calabria ci sono e sono imprese di qualità e competenti. Per la Calabria c'è un impegno epocale da parte dell'ANAS perché in questa regione vengono concentrati 4 miliardi e 600 milioni di investimenti. Lo ha detto l'amministratore delegato dell'ANAS Gianni Vittorio Armani alla cittadella regionale per presentare il progetto della variante della strada statale 106 per il nuovo collegamento tra Catanzaro e Crotone. Prima di tutto abbiamo un piano finanziato per quasi 2 miliardi e 200 milioni di euro che prevede ovviamente oltre al megalotto il rifacimento e la messa in sicurezza del tracciato attuale. Questo è completamente finanziato ed è la priorità per noi che dobbiamo gestire ovviamente giorno per giorno questa strada che per il traffico che ha è sicuramente inadeguata. La seconda cosa è ovviamente studiare tutte le soluzioni di ottimizzazione, di miglioramento del servizio che la strada da sola non può dare e su questo c'è anche il progetto di fattibilità su cui ovviamente nulla è scritto e si apre adesso un confronto con il territorio per vedere e verificare quale sia la soluzione migliore e poi eventualmente come finanziarla. Cosa intende per ottimizzazione e miglioramento dei servizi? Ovviamente trovare soluzioni che accorcino il tracciato e che consentano di arrivare in modo più agevole da un posto a un altro sono soluzioni che ovviamente possono essere studiate che oggi non sono finanziate ma che siamo disponibili a studiare ovviamente con soluzioni che vengano dal territorio e siano condivise e oggi inizia questo piano di fattibilità abbiamo dato la disponibilità a studiarle e poi a inserirle nel contratto di programma qualora fossero ovviamente soluzioni che stanno in piedi. È un tracciato che accorcia le distanze tra Grotone e Catanzaro e naturalmente anche il resto la viabilità collegata alla città capoluogo e è un'ipotesi che apre alle aree interne perché si sposta all'interno tutta l'area del Marchesato, della sila crotonese e catanzarese sarà servita da questa nuova variante. Lo studio di fattibilità ci dirà la sostenibilità economica e la sostenibilità tecnica di questo percorso. Sono cinque i punti all'ordine del giorno del Consiglio regionale in programma giovedì 10 con inizio fissato alle ore 10.30. Tra i temi all'esame dell'Assemblea legislativa calabrese spicca quello della riduzione dei vitalizi. Sarà infatti discussa la proposta di legge regionale dal titolo Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abolizione adeguamento Istat. La proposta di legge inizialmente presentata dal Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto è stata sottoscritta anche da altri consiglieri regionali della maggioranza e dell'opposizione. Sarà realizzata la strada che collega il santuario della Madonna di Polsi con la statale 106 Ionica. Si tratta di un intervento di portata storica e che forse, dopo tanti anni, porrà fine all'isolamento del santuario, luogo di culto ma metambita dei capi mafia calabresi che proprio ai piedi del santuario organizzavano il loro summit. Polsi deve essere restituito alla sacralità dei valori cristiani, lontano da volgari ambiguità. Il progetto proposto dal Presidente Mario Oliverio nella seduta del 22 dicembre 2017 al Cipe prevede un finanziamento di circa 20 milioni di euro. Un gruppo di professionisti è già al lavoro per redigere in tempi brevi lo studio di fattibilità e nell'emore della realizzazione del progetto saranno realizzati interventi di sistemazione e manutenzione dell'attuale strada di collegamento. Soddisfatto il governatore della Calabria Mario Oliverio. Il santuario di Polsi, questo importante riferimento per i calabresi, ha detto Oliverio, deve diventare il luogo da cui si sprigiona l'energia che deve spingerci a lavorare e ad impegnarci perché gli obiettivi di riscatto e di crescita si realizzino. La Calabria è una terra che deve esprimere tutte le sue grandi potenzialità per consentire ai nostri giovani di costruire qui, nella loro terra, il loro futuro. Questo è l'impegno che oggi vogliamo assumere. Occorre vincere ancora alcune resistenze che sono di carattere squisitamente personale e quasi campanilistico perché non è pensabile che una città con meno di 100.000 abitanti abbia due hub. È uno spreco enorme di risorse e di professionalità. Lo ha affermato il commissario alla sanità calabrese Massimo Scura con riferimento al percorso di creazione dell'azienda unica di Catanzaro attraverso l'integrazione delle aziende pugliese e materdomini. Non è pensabile che una città che ha meno di 100.000 abitanti abbia due ospedali hub, uno a Catanzaro Nord e uno a Catanzaro Sud. Non esiste. È uno spreco enorme di risorse ed è uno spreco enorme di professionalità. perché il pugliese ha una competenza sicuramente enorme per quanto riguarda l'assistenza. Il materdomini e l'università hanno competenze particolari per quanto riguarda ovviamente la didattica e la ricerca. Messe insieme queste due positività, il sistema diventa una bomba di positività. E' questo che la gente deve capire e chi lavora al pugliese e al materdomini deve capire. Tutto il resto, quante unità operative spettano a me e quante spettano a te. Sono delle cose veramente che vanno superate, sono superflie. Con la seduta inaugurale di ieri mattina a Palazzo Campanella si è insediato l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere istituito con la legge regionale 38 del 2016. La normativa ha avuto come primo proponente il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto che ha aperto i lavori del nuovo organismo. Quest'ultimo è composto oltre che da tre membri di diritto, da cinque esperti e dieci rappresentanti di associazioni attive nella materia del contrasto alla violenza di genere che sono stati individuati attraverso un avviso pubblico. L'insediamento dell'Osservatorio di genere regionale sulla violenza di genere ritengo sia un momento molto importante per la Regione Calabria perché finalmente diamo seguito a un progetto di legge che io stesso avevo firmato e poi condiviso con tutti i capigruppo circa un anno fa. Quindi adesso l'organismo parte dopo aver fatto un avviso pubblico rivolto alle associazioni impegnate sul territorio calabrese e quindi adesso l'organismo potrà attuare tutte quelle politiche di monitoraggio, di proposta anche di iniziativa legislativa al Consiglio regionale. Per capirci siamo una delle prime regioni d'Italia ad aver istituito l'osservatorio che tra l'altro è stato ampiamente sollecitato dai governi nazionali a far sì che le regioni possano avere degli osservatori che abbiano contezza piena di quello che avviene in termini di violenza di genere. Essere riusciti a fare un organismo dove ci stanno degli esperti riconosciuti, dove ci stanno le associazioni più impegnate sul territorio calabrese, dove ci sta un delegato del Dipartimento Salute della nostra regione e ci mette nelle condizioni di aver fatto un organismo a costo zero. Il rettore dell'Università della Calabria Gino Mirocle Crisci ha deciso di sospendere le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche fissate nei giorni 16 e 17 maggio 2018, in attesa che il Tribunale amministrativo regionale della Calabria si pronunci nel merito alla richiesta di sospensione cautelare presentata da una candidata esclusa dalle liste. Lo ha comunicato l'Ateneo. La vicenda, si legge in una nota, nasce dalla diforme interpretazione del regolamento elettorale che ha dato luogo alla presentazione di un ricorso giurisdizionale da parte di una studentessa. Non ho mai chiesto aiuto per il mio comando a Calabria Verde, non ho mai guadagnato un euro in più di quanto mi veniva corrisposto dal Comune di Francica e soprattutto mi sono dimesso dopo due ulteriori proroghe firmate da Marigio. Si difende così il sindaco di Acquaro, Giuseppe Barilaro, indagato insieme al governatore della Calabria Mario Liverio e altre quattro persone per le procedure eseguite riguardo al suo comando dal Comune di Francica a Calabria Verde. Non ho mai richiesto, segnando quasi certamente un'eccezione unica, continua ancora Barilaro, alcun rimborso per le spese di viaggio sostenute nei tantissimi trasferimenti con la mia auto dalla sede dell'azienda di Mongiana alla sede di Cadanzaro dove mi recavo quasi settimanalmente per motivi di lavoro. Il primo cittadino di Acquaro poi si dice fiducioso, confidando nell'operato della magistratura alla quale, afferma, offrirò tutta la mia collaborazione nel rispetto dei ruoli e delle parti. Intanto, in un altro filone di inchiesta che riguarda ancora Calabria Verde, il presidente della regione Calabria, Mario Liverio, e la stessa regione hanno deciso di costituirsi parte civile nel processo che davanti al Tribunale di Castrovillari vedrà tra gli imputati il capo di gabinetto alla presidenza, Gaetano Pignanelli. Il fuoco dell'inchiesta è il suo rapporto con Marino De Luca, titolare di una ditta che si occupa del taglio boschivo. Quello di Oliverio però fa più rumore di altre perché Pignanelli è l'uomo di fiducia del governatore al decimo piano, perché i due collaborano dai tempi in cui lo stesso Oliverio guidava la provincia di Cosenza e soprattutto perché il dossier di Calabria Verde diventa sempre più strategico per il futuro di questa legislatura regionale. Tecnici e investigatori ancora al lavoro per chiarire le cause dell'esplosione che a Crotone ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro, tra cui tre bambini. Da ciò che è emerso dalle indagini non si esclude alcuna ipotesi, anche se inizialmente si era parlato di una fuga di gas. Gaetano Longo, ispettore dei vigili del fuoco di Crotone, ha valorato la tesi di una diversa causa ai microfoni del giornale di Radio 1. Da una prima valutazione, dice, potrebbe anche non essere stata una fuga di gas. Non sappiamo se si sia trattato di dolo. L'esplosione che ha sventrato l'appartamento nel quartiere Lampanaro a Crotone ha provocato la morte di Rita Murgeri, di 55 anni, e del compagno Saverio Romano, di 43. Nell'esplosione è rimasta gravemente ustionata la nipote della vittima, una bambina di 4 anni, mentre le altre due sorelline, di 7 e 10 anni, sono state portate all'ospedale di Crotone e le loro condizioni non sono gravi. Non è grave neanche la madre delle bambine, mentre il padre è rimasto illeso. I rilievi all'interno dell'abitazione sono in corso da questa notte. Alcuni particolari, come il fatto che la caldaia non abbia subito danni, lascerebbero pensare ad una causa diversa dalla fuga di gas per la tragica esplosione. L'obiettivo dei controlli è verificare se vi siano tracce di esplosivo nell'appartamento dovute all'eventuale presenza di ordini usati per la pesca. Un'ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori dopo alcune testimonianze raccolte nella zona e all'esito dei primissimi accertamenti compiuti dai vigili del fuoco, che tendono ad escludere che all'origine della deflagrazione vi possano essere la caldaia o la bombola del gas che alimentava l'appartamento. Caldaia e bombola, infatti, erano sul terrazzo e sono state trovate intatte. L'ipotesi prevalente tra gli investigatori è che comunque si tratti di un incidente. Il procuratore di Crotone, Giuseppe Capoccia, non ha confermato la presenza di esplosivi ma non ha escluso, al momento, alcune ipotesi. Un uomo MB di 72 anni è morto a Crotone in un incidente stradale avvenuto nell'abitato cittadino. L'anziano era alla guida della sua auto quando, per causa e in corso di accertamento, si pensa ad un malore, ha perso il controllo della vettura. L'auto, una Lancia Y, avrebbe superato lo spartitraffico finendo sulla corsia opposta scontrandosi con un'altra vettura, una Mercedes classe 3, in transito e con a bordo due persone. Gli occupanti della Mercedes sono rimasti feriti e portati al pronto soccorso con diverse contusioni. Subito dopo lo scontro, il conducente della Lancia Y era vivo ma è deceduto poco dopo. Scene da Lancia Meccanica nelle Vibonese e i carabinieri di Vibo Valencia hanno sottoposto a fermo Mirko Furchi, di 25 anni, ritenuto affiliato al locale di Indrangheta di Limbadi con l'accusa di rapina, sequestro di persona, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale. Furchi, assieme ad altre tre persone in fase di identificazione, avrebbe aggredito e picchiato a Nicotera un 85enne rapinandolo di 70 euro e dell'auto. L'anziano, abbandonato per strada, è stato soccorso e si trova ricoverato in ospedale. A Ionadi, dove sarebbe giunto con la vettura rubata e armato di pistola, Furchi è accusato di avere tentato una rapina andata a vuoto per la blindatura dei vetri ad una sala scommessa, riuscendo soltanto ad impossessarsi di 200 euro sottratti ad un avventore. Il 25enne, rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione, dove sono state trovate l'auto rubata, un coltello e oltre 1200 euro in contanti. Ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato dai carabinieri. Ha percepito per circa 17 anni doppio stipendio da parte di enti statali e doppie contribuzioni previdenziali. Ad un ex dipendente pubblico, attualmente in pensione, ritenuto responsabile di truffa ai danni dello Stato, la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per oltre 400 mila euro. L'ex dipendente pubblico, a seguito dell'accoglimento di una sua domanda di mobilità, era stato trasferito dall'ente dove prestava servizio ad altra struttura statale. Dagli accertamenti dei finanziari è emerso che il dipendente ha omesso di comunicare le informazioni relative al trasferimento, traendo in inganno l'interrogatore, riuscendo a percepire illegittimamente per 17 anni un doppio stipendio con annesse e retribuzioni previdenziali, tra i beni sequestrati un immobile e diversi rapporti finanziari. I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno sequestrato oltre 1.400.000 euro a Fortunato Calabro, noto anche come ignoto 23. Uno dei partecipanti è l'ultimo a essere identificato al Summit di Indrangheta svoltosi nel 2009 nel centro Falcone Borsellino di Paderno Gugnano, nel Milanese. Negli ultimi 10 anni ha dichiarato 40.000 euro, ma gli investigatori hanno scoperto 11 immobili dal valore di 1 milione di euro a Cesano Maderno intestati alla moglie ma riconducibili a lui e oltre 400.000 euro su conti correnti e fondi di investimento. Giovedì 10 maggio dalle ore 8 e per tutta la mattinata verrà interrotta l'erogazione del servizio idrico in piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe. Lo ha comunicato l'ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che il disservizio sarà causato dalla necessità di riparare una perdita della condotta all'altezza di Via Fiume nel quartiere Lido. La normalizzazione nell'erogazione dell'acqua potabile dovrebbe avvenire nel tardo pomeriggio di giovedì 10 maggio. Un premio meritato, Fabio, mi pare che la classifica sia anche... Sì, è una classifica veritiera e quindi complimenti a Spighi e complimenti anche all'iniziativa di RTC Telecalabria. Mirko Spighi, centrocampista del Catanzaro Calcio, ha vinto la Top 3 2018 di RTC Sport, speciale classifica curata dalla redazione sportiva di RTC Telecalabria durante la stagione calcistica di Serie C 2017-2018. Nonostante il campionato sofferto e deludente della squadra di noto che ha cambiato ben tre tecnici durante la stagione, l'ex Terramano si è dimostrato elemento affidabile, serio e costante in mezzo al campo, dove ha offerto al suo gruppo qualità e quantità. Attento in mediane di ininterdizione, diligente e presente nella manovra offensiva, Spighi è stato scelto dalla redazione sportiva di RTC per il suo rendimento costante durante l'intera stagione agonistica. Il vincitore della Top 3 di RTC Sport ha partecipato martedì sera alla trasmissione sportiva condotta da Mario Mirabello. Ci tenevamo a chiudere bene questo campionato, ricco di difficoltà e il mister ha stato chiaro in settimana di non lasciare niente al caso. Mirko, perché vi siete messi a giocare proprio, ad essere più squadra, più gruppo proprio nelle ultime giornate? Questo aumenta il rammarico. Non lo so, io ogni tanto mi faccio delle domande, mi faccio un esame di coscienza nel senso che c'è stato qualcosa che sicuramente non è andato, perché appunto come abbiamo detto tutti, come dice la gente, abbiamo una squadra comunque sia a livello di rosa importante e vedere 42 punti il Catanzaro sicuramente sono il primo io a essere dispiaciuto. Però evidentemente ci sono state delle lacune, ci sono state delle cose che non andavano. Oggigiorno posso dire che è finito il campionato e abbiamo fatto cinque partite come si doveva il mister, secondo me abbiamo fatto una disamina perfetta, però non so dove è la... non mi so dire la risposta diciamo, non me la so dare. Qualcosa è dovuto accadere? Sicuramente è cambiato qualcosa anche nella testa di noi giocatori, proprio avevamo più convinti, più concentrati in quello che dovevamo fare, appunto non so se è stato il modulo, se è stato il mister, se è stato il direttore, se è stato di noi giocatori che ci siamo trovati, ci siamo uniti troppo tardi, qualcosa deve essere successo, sinceramente non saprei dire qual è la risposta giusta, però qualcosa è successo. Grazie a tutti.